Sì, Grieg... Sì, sì è bruttissimo. Sì è bruttissimo, è più bello infatti. Parti in maniera più stonte. Infatti, Edward Grieg scrisse moltissimi leader, stanno in ben 7 CD. Andiamo allora ad ascoltare questi due leader di Grieg, dall'opera 48, il primo, e dall'opera... Ma perché devo dire l'opera che non ce l'ho sotto mano? Porco... Adesso bestimile. Un porco giuda. Porco mondo.